Stereo 5 TV presenta l'almanacco del giorno in studio Luigi Comentale Oggi domenica 24 dicembre 2023 vigilia del Santa Natale quarta d'Avento e San Delfino A Roma il sole è sorto alle 7.36 e tramonta alle 16.43 ora solare A Milano è sorto alle 8.02 e tramonta alle 16.43 Luna che tramonta alle 5.06 per levarsi alle 14.26 Il proverbio di oggi, grassa cucina, magro testamento Andiamo da calde, nel 1914 la prima guerra mondiale va in pausa A inizio la tregua di Natale Nel 1946 nasce la quarta repubblica francese Nel 1951 la Libia diventa indipendente dall'Italia E nel 1971 Giovanni Leone viene eletto capo di stato italiano Nel 2003 la polizia spagnolo sventa un tentativo dell'ETA di far esplodere 50 kg di esplosivo All'interno della trafficata stazione di Madrid Nel 2009 Papa Benedetto XVI viene aggredito da Susanna Maiolo durante la messa di Natale Sono nati in questa giornata di Vigilia Edwige Fenech, attrice franco-italiana Irene Fornaciari, cantante italiana e figlia d'arte Ricky Martin, cantante portoricano Ci lascia in questa giornata nel 2003 Harold Pinter Dramaturgo tra i più valenti del secondo novecento La nostra frase aforisma di oggi Rimandare è meglio che sbagliare Lo dice Thomas Jefferson Io vi lascio alla Vigilia di Natale Alla vostro cenone Un saluto da Gino Comentale Grazie per averci guardati Domani Natale saremo ancora qui Ovviamente per darvi anche gli auguri Ciao, buona festa L'almanacco torna domani Grazie per averci guardato